Per tutti gli amici del Duca oggi ho caricato un rapper Don Cash gli ha detto che ci canta qualche cosa nel taxi del Duca 40 la posso mettere su Youtube Don? Certo che puoi Vai Però prima devi dire 4 parole Duca 40 ok dimmi la prima parola che ti viene in mente Duca 40 il tassista Taxi Natra Ah è Taxi Natra nel senso faccio cose con il frac tipo Frank Sinatra e mi hai detto scusa Don ma sai rappare beh io faccio questa cosa gli altri mi fanno cagare io salgo in taxi in me la lievo in taxi nel senso quando arrivo tu paga le tax X nel senso sono come Mixterix l'uomo tigre io giro solamente in giro con soldi e le fighe e mi hanno detto Marcello sali sul taxi prendi questa mano io sogno solo in materassi ho i ritmi grassi e quando vengo da qualche parte tranquillo che il mio passato sta tra i palazzi e ma sti cazzi spazzo giù in freestyle nel senso che te lo spiego quando lo fai come non lo fai lo sai sei piccolino tipo bonsai e quante ne sai Don quante ne sai hai ho sempre ragione il detto è popolare fare cose bene come questo traffico che è impopolare come il palazzo da cui vengo quello è popolare come il rap che ti spaccio che fa popolare la gente spopola cambia e migra dicevo in questa vita col dei soldi e la figa come quando arrivo sopra il palco tu resti sotto sono tipo il Kosovo colpiti in nitra guardo avanti e dopo guardo indietro ho fatto cose buone senza grazie e senza prego è un caso chiuso quindi chiamami Cluedo sono come in legno perché mi spezzo ma non mi piego avanti ancora con gli anni dicevo che le fai ancora bene la mia voce dentro sto cazzo di hi-fi concludi con le frasi come le vuoi tu scusa Don tu rappi e ti metto su YouTube e fake taxi per me sta su YouPorn Pornhub quante ne sa questo qua che fa la qualità ma quale qualunquismo io stretto comunismo e da bambino facevo rapine sopra il ritmo adesso faccio rapine dentro una banca nel senso che alzo lo starda fino a quando lo faccio col ritmo ti vedo triste afflitto quando ti stai zitto nel senso io faccio rap e mi ci pago anche l'affitto ed ogni giorno trasmetto sopra un network tutta Italia che lo fa se la vivi a manitaria a manigliati coi fratelli coi barnelli gli spinelli come quando giravo con i bidelli a scuola e te l'ho detto tu impari vai in paranoia Don Cash è tutto vecchio e nuova vecchia storia e nuova scuola ehi ti mando a scuola sotto le lenzuola concludi io sono un bomber minora iola e come fai? ancora si alza la stamina cazzo sono tre minuti e questo qui che mi continua capisci non mi fermo e il disco inferno Don Cash che ti scatena fino a quando resti down disco inferno rimani fermo vado all'inferno è come il diavolo che fa il pecchio coperchio sei vecchio scoperto che mi guardo da dentro uno specchio e questo ritmo non si ferma copernico come dici faccio come come incastri con il lessico fin quando non mi trovo e sono all'astrico e tu sei pessimo e ammesso che giocassi a calcio non sembri messi ma il più scarso dentro il messico ehi io talzo la stamina dopodiché continua fino a quando non mi fermo se concludo un'altra rima la base è come dice Mosfei Schilla Gospfei Schilla sai una cosa da dire ti prego dilla ehi e faccio come il flow anguilla ti scivolo tra le mani questa city ehi i giovani falliti ehi che vanno in giro dicendo che fanno rapio metterò il delay ancora fermo dentro il traffico Roma dimmi roba buona poi dimmi se funziona tre minuti passi e dopo chiudi ancora tu ti aspetti che questo che canta sembra Kid Cudi mi tocca sparate per farti star zitto ma comunque ti ringrazio per tutti i miei amici che non farei mal ma ci fa piacere ciao 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 ciao